ciao ragazzi e ragazzi benvenuti in questo nuovo video benvenuti sul mio canale queste le parole famose ormai non vi spaventate che non ho messo le mani nella presa di corrente assolutamente non sono rimasta folgorata ho solo rispettato il sondaggio che ho fatto ieri appunto siccome doveva fare dovevo fare il colore quindi vi ho scritto nel sondaggio se era il caso di asciugare i capelli ricci ricci abbastanza voluminosi tipo un pochino afro non proprio afro ma quasi e il 67 per cento di voi mi ha detto sì quindi io che cosa faccio io non vi contraddico e ho fatto questa cosa qui vi dico la verità quando passo davanti allo specchio un attimino mi impaurisco da sola perché mi vedo questa testa così da leonessa io avendo capelli lisci e molto piatti mi ritrovo così con questa testa molto molto riccia però per cambiare sono molto favorevole ai cambi look per quanto riguarda anche i colori mi piace molto cambiare svariare e sono anche una persona che osa quindi nonostante l'età mi piace sempre cambiare usare colori eccetera eccetera ormai mi conoscete un pochino come sono fatta allora siccome io mi definisco la donna dei volantini in realtà quando non riesco a dormire che cosa faccio la sera la notte vado per volantini vado su internet a vedere volantini ho scoperto il volantino dell'euro spin ho visto delle cose molto molto carine molto sfiziosette per cui ve le volevo diciamo un attimino presentare ecco perché in realtà sono delle cose di beauty creme profumi è una marca che già conoscevo perché in passato di questa marca ho preso lucida labbra che ho portato nella borsetta fino a che non l'ho finito che non l'ho termina un terminato perché mi piace proprio come prodotto sto parlando della marca fior di magnolia appunto questo stand che troverete nella parte diciamo dei profumi nella parte appunto del beauty e c'è questa marca e questa settimana il volantino di questa settimana c'è appunto nello specifico ci sono varie creme io adesso naturalmente vi alleggo le foto così capite bene di che cosa sto parlando e appunto andiamo subito a vedere la crema c'è una crema viso idratante nutriente a 3 euro e 19 quindi prezzi molto molto low cost però non perché sono low cost e non debbano essere buoni assolutamente no come ripeto ho utilizzato qualche prodottino mi ci sono trovata bene appunto è un 50 ml e c'è in due colorazioni in blu e in rosa comunque una crema viso idratante nutriente quindi per chi ha la pelle secca come me è un tocca sana poi abbiamo questo burro questa crema burro corpo nutriente io il burro corpo li adoro li amo perché io avendo una pelle secchissima di mio il burro corpo veramente me la va ad idratare in maniera eccellente a rilascio gratuato perché io la metto poi la faccio la doccia la sera poi mi metto il pigiama la camicia da notte quello che indosso e naturalmente questa crema va ad assorbirsi piano piano ed è la cosa migliore perché idrata la pelle in una maniera eccezionale a 2 euro e 99 e sono appunto 250 ml poi troviamo il detergente intimo alla calendula e alla camomilla sono 300 ml ad un prezzo di 1 euro e 39 e ce ne sono appunto in due colorazioni o alla calendula o alla camomilla sono due prodotti buonissimi sia la calendula che la camomilla la calendula ha un potere lenitivo per cui magari qualcuno che soffre di infiambazioni di irritazioni e la camomilla anche sono due prodotti veramente veramente buoni poi troviamo lo struccante bifasico sono un 150 ml ad un prezzo di 1 euro e 79 vedete nella confezione blu poi troviamo il deodorante donna assortiti c'è il rosa e il giallo ad 1 euro e 29 ad un prezzo di 6 euro e 45 poi abbiamo questo eau de parfum donna assortiti li abbiamo rosa gialli bottiglie a me piace quella più piccolina quella più tonda sono sempre 100 ml e quindi vi dico la verità io quando vado all'euro spin sono solita sempre soffermarmi dove ci sono questi profumi per fare la prova per sentire diciamo proprio l'aroma del profumo e questo giallo già lo avevo sentito nello specifico è davvero davvero buono quindi uno dei tre li andrò ad acquistare anche perché tutti noi abbiamo i profumi quelli di marca eccetera eccetera però da portare in borsetta un po sfiziosi diciamo che questi qui anche sono molto low coste sono mi piacciono insomma sono carini da avere in borsetta poi abbiamo lo stesso discorso per quanto riguarda eau de parfum da uomo assortiti ce ne sono svariati appunto sempre a 5 euro e 99 e sono sempre 100 ml poi abbiamo questa bottiglina che è un incanto perché ha questo packaging rosa davvero davvero bella proprio il colore e tutto il resto a 5 euro e 99 ed è appunto questo profumo secret moon che è veramente bello bello anche da vedere e questo sicuramente lo acquisterò sempre da mettere in borsetta o magari sulla postazione make up perché mi piace proprio il packaging e sono sempre 100 ml credo lo andiamo a vedere più nello specifico si sono sempre 100 ml quindi questi erano tutti i prodotti del fior di magnolia che troverete nel volantino dell'euro spin che è partito mi sembra da ieri che era lunedì quindi ecco chi fosse interessato a questi profumi e questi prodotti beauty li troverete nello stand nel reparto dove ci sono tutti questi prodotti appunto creme profumi eccetera eccetera l'euro spin il video finisce qui con questo vi rimando al prossimo video un video un pochino breve ecco però era solo per farvi diciamo così conoscere questi prodotti che già conoscerete assolutamente però io nel vederli mi sono incuriosita e mi è venuta voglia di fare questo video con voi vi rimando al prossimo video grazie per l'ascolto naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale lasciate un like mi raccomando cliccate anche la campanellina così non vi perderete nessun video che sarà online seguitemi anche su instagram che come vedete sondaggi domande anzi avrei deciso di fare un video con le vostre domande quindi aspetto le domande su instagram e così poi farò il video vi rimando al prossimo video vi auguro un buon pomeriggio e a presto ciao ciao ciao